Nella puntata degli 23 gennaio del 2023, la bella brava e simpatica Pamela Prati è un finale di puntata della 29esima di ieri, pensate che è terminata non con il solito balletto di Carmelo Russo, ma con l'ultima canzone, con l'ultimo singolo musicale di Pamela Prati che si chiuda Viva, che nasce da un percorso che ha confiuto proprio all'interno della casa più spiata di Davide. Ha cantato Viva, andato a domanciare il grande fratello, ma anche il buon Alfonso Signorini, ossia il due conduttore del programma in questione, fermata tutta a punto, con delle belle piume addosso, con dei paletti e dei colori sgargianti, Pamela Prati canta in modo garbato, mi sa piacevole canzone, risultando gradevole, piacevole, simpatica, un tempo stesso, molto molto brava. Credo che abbia cantato ieri, che ho visto una puntata, non in playback, ma utilizzando barra, sfruttando la sua viva voce. Il risultato non è passato in osservato, al più è piaciuta e ha lasciato, diciamo così, che avrebbe le sensazioni che avrebbero conseguita di vedere o meglio ascoltare questo ultimo singolo musicale che si intitola Dio, proprio di Pamela Prati, e ripeto, narra il percorso in modo abbastanza incisivo, ma sereno il percorso di Pamela all'interno della casa del grande fratello Ditto. Vi ringrazio per lo sfrutto e per la visione del video di oggi, iscrivetevi, commentate e ciò che vi ringrazio.